Oggi e domani in Umbria ci sono anche tante iniziative per informare la popolazione sul diabete, una patologia che purtroppo nella nostra regione registra un trend di crescita. Attualmente i pazienti sono oltre 50.000. Quali stili di vita adottare? Come prevenire la malattia? I volontari di Diabete Italia sono stati a disposizione tutta la giornata per rispondere a queste domande. A Perugia c'è stato poco fa anche un corteo per sensibilizzare l'opinione pubblica, mentre sono stati distribuiti questionari per valutare il rischio di sviluppare il diabete. Per incentivare le buone pratiche sono state poi organizzate alcune passeggiate sia per la giornata di oggi sia per quella di domani. Il programma completo delle iniziative lo potete trovare sul sito www.diabeteitalia.it